Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi commentiamo, Mila Juventus 0-1, la decide Manuel Locatelli, il gol dell'ex, il più classico dei gol dell'ex. Ma partiamo proprio da Manuel Locatelli, prima di parlare della partita, di analizzare il risultato, ma soprattutto la prestazione, come abbiamo fatto sempre di consueto, su questo canale. Parliamo di Manuel Locatelli, perché veramente certe volte il destino, quando si impegna, riesce a creare delle cose incredibili. Sette anni fa, 22 ottobre di sette anni fa, Manuel Locatelli, che era un ragazzino di 18 anni del Milan, che appunto era il regista del Milan di Montella, realizza il gol dell'1-0, che poi deciderà Mila Juventus, proprio con Massimiliano Allegri, sulla panchina dei bianconeri. Sette anni dopo, stessa giornata, quasi stesso minuto, quasi stesso minuto, perché Locatelli, quel Milan Juve, lo decide al 63esimo, al 65esimo di questo Milan Juventus, con la maglia dei bianconeri. Locatelli trova la rete dell'1-0, 1-0 decisivo, anche in questo caso. Quindi veramente, il destino, certe volte, quando si impegna, crea delle combinazioni, delle cose incredibili. Manuel Locatelli, l'uomo del destino, in una partita che sicuramente è la partita degli episodi. Non è stato un Milan Juventus spettacolare, quindi partiamo subito con l'analisi della partita, dove aver analizzato questo dato curioso di Manuel Locatelli. Parliamo della partita, perché non è stato un Milan Juventus spettacolare, chiaramente il tasso tecnico era molto basso, per via anche delle tante assenze in entrambe le squadre. Chiaramente il Milan aveva le sue defezioni, c'era il terzo portiere, c'era Antonio Mirante, vecchia conoscenza della Juventus tra i pali, ma quindi vuol dire che comunque mancava un pezzo da 90 tra i pali come Mike Magnan. Poi mancava Teo Hernandez, che comunque abbiamo imparato a conoscere in queste stagioni come uno dei sicuramente migliori terzini d'Europa. Poteva essere un giocatore molto doloroso per la Juventus su quella fascia. Però sicuramente le defezioni c'erano anche il lato Juventus. Innanzitutto l'attacco titolare dei bianconeri contro il Milan era Ken Milik, quindi le doppie alternative di Chiesa Vlaovic, recuperati in estremis per la panchina. Poi oltre alle squalifiche di Fagioli e Pogba abbiamo avuto tuttora anche Danilo e Alexandro, che comunque è un cambio importante per la panchina, quindi comunque anche per i bianconeri c'erano delle defezioni importanti. Per questo è che anche lo spettacolo ne è stato colpito, è stato comunque inficiato. Lo spettacolo non è stato incredibile, non è stata una bella partita, non è stato un bel Milan-Juventus. Però è stato un Milan-Juventus molto tattico, molto tattico con l'imprevisto, l'imprevisto del cartellino rosso per Chao che comunque ha indirizzato la partita. È stata la partita degli episodi. Innanzitutto il primo episodio, il primo episodio con la super mega parata di Chiesny sulla conclusione di Olivier Giroud su cross di Rafa Leao, grande giocata di Rafa Leao sull'esterno che mette un traversone tagliato bellissimo sul primo paolo per Chiesny che stoppa e calcia di sinistro e fa una parata impressionante, impressionante voce a Chiesny. Primo episodio del match. Secondo episodio, il cartellino rosso per Chao, chiaramente lancio in verticale bellissimo di Timo Diwea che comunque ha fatto una partita molto promettente proprio in ottica futura, vuol dire che il ragazzo sta veramente crescendo, sta imparando comunque a conoscere il calcio italiano. Grande lancio in verticale su Ken, Ken fa una giocata veramente incredibile. Colpo di tacco, scarta a Chao, va in uno contro uno praticamente con la porta, sta andando in uno contro uno con la porta e Chao lo tira giù. Calcio di punizione netto con cartellino rosso annesso per il difensore del Milan, tutto molto netto a rispetto comunque di quello che possono dire gli anti-Giuventini, è veramente una decisione ineccepibile. Quindi cartellino rosso, secondo episodio clamoroso di questa partita e poi il terzo episodio è chiaramente la nette di Locatelli. Conclusione da fuori aria con annessa deviazione, quindi l'episodio fortuito che gira lato Juventus. Questo tiro deviato di Locatelli, probabilmente quell'intervento non sarebbe stato così complicato da fare per Mirante, però la deviazione lo mette fuori gioco. Mirante che tra l'altro aveva fatto una partita, ha fatto una partita incredibile. Tanti avevano i dubbi su Mirante, ma ragazzi parliamo di un portiere che ha navigato tanti anni in Serie A e sa benissimo come comunque tenersi in forma a discapito comunque degli anni che passano. Parliamo di un portiere di grandissima esperienza, non un fenomeno ma chiaramente come terzo portiere un lusso impressionante. Ripeto, grande prestazione da parte sua, ma nulla poteva sulla conclusione deviata di Locatelli. Bellissima comunque anche la scena delle esultanze di Locatelli. In fine gara abbiamo avuto anche le lacrime del ragazzo che se la sentiva particolarmente questo Milan-Juventus, ma poi tra l'altro per lui è stato un Milan-Juventus del destino. Chiaramente sette anni fa, come ho detto prima, aveva deciso cuore bianco-nero il match a favore del Milan. Lui vestiva la maglia del Milan, era solamente un promettente diciottenne regista di quel Milan di Montella. Chiaramente ragazzi, sette anni dopo è andato a decidere lato Juventus, il cuore suo batteva lato bianco-nero, è riuscito a decidere un Milan-Juventus da ex, quindi veramente, ripeto, certe volte il destino quando si applica crea delle storie impressionanti. E quindi terza, slide in oro, veramente incredibile. Juventus in vantaggio di 1-0, tre episodi che comunque sono girati a favore dei bianconeri, potevano anche girare in maniera contraria, quindi non è sicuramente stato tutto merito dei bianconeri, c'è avuto anche un po' di caso, un po' di fortuna, però era troppo importante portare a casa questa vittoria. Quindi partiamo chiaramente con l'analisi del risultato, risultato che parla clean sheet per i bianconeri, ennesimo clean sheet stagionale con annessa super parata di Cesni, ma comunque una buonissima prestazione nei nostri tre difensori e poi davanti comunque abbiamo trovato la letra del 1-0, vittoria importante, terzo di Juventus che ritorna a vincere dopo tanti anni a Milano, dopo due anni e mezzo, ma più che altro tre punti in cascina che fanno arrivare la Juventus a meno due dall'Inter capolista e a meno uno proprio dal Milan, che è al secondo posto in classifica. Quindi stiamo parlando comunque di un risultato troppo importante, però la prestazione non è stata comunque una prestazione all'altezza. Sicuramente ci sono più i difetti del Milan come costruzione del gioco, perché, ripeto, non è stato un Milan spettacolare, poteva fare molto di più, anche perché, ripeto, loro avevano delle defezioni importanti in fase difensiva, ma davanti era il Milan titolare. Sicuramente l'espulsione è stata comunque importante, ha cambiato in maniera decisiva il match. Però anche, ripeto, in 11 contro 11 non abbiamo visto un Milan arrembante, come mi sarei aspettato sinceramente io, e più una Juventus contropetista. Anzi, abbiamo visto lampi di aggressività comunque in avanti dei bianconeri, è partita molto, molto equilibrata, che poi, ripeto, è girata grazie a quegli episodi con il super miracolo di Cesni e con il cartellino rosso di Malik Chao. E quindi è una Juventus che ha saputo sfruttare gli episodi, è riuscito a portare gli episodi a proprio favore, è stata anche brava a costruire comunque la rete del 1-0, ma poi nel secondo tempo ha anche legittimato il vantaggio perché Vlaovic, solo lui, ripeto, solo Vlaovic da quando è entrato ha avuto due chance clamorose per trovare la rete nel raddoppio, quindi è stata più vicina la Juventus al raddoppio che il Milan al gol del paleggio. Chiaramente parliamo di una squadra in 10 uomini, quindi era molto complicato per i rossoneri, però sicuramente potevano comunque orchestrarla in maniera differente, anche perché la Juventus non ha mai dato prova di fare una prestazione imponente, non ha mai messo sotto il Milan per trovare la rete nel raddoppio, l'ha fatto solamente negli ultimi 5-6 minuti quando veramente anche le forze scarseggiavano in casa Milan. Quindi è stata la Juventus che comunque è stata un po' deficitare sotto l'aspetto della prestazione, non siamo stati convincenti, ma forse è anche pesato molto il fatto di portare a casa questa vittoria. eri in 11 contro 10, avevi a quel punto l'obbligo di portare a casa la vittoria perché dopo il gol del 1-0 pareggiare per il Milan sarebbe stato un gran colpo per loro, è un grande flop per te, quindi magari è anche subentrato un po' di ansia, un po' di paura, cosa che dobbiamo assolutamente cancellare. Per quanto riguarda le prestazioni, ripeto, ottimo il trio difensivo, mi è piaciuto davvero tanto, con Bremer soprattutto che è riuscito a essere finalmente leader del suo reparto difensivo, molto molto bene il brasiliano, ma bene anche comunque Gatti che ha dovuto fare gli straordinari per marcare Rafa Leão, ma è bene comunque anche Rugani che quando viene chiamato in causa fa sempre bene, questo ragazzo è veramente impressionante, quindi una riserva di lusso per la Serie A, perché Rugani, stiamo parlando di un giocatore che quando gioca fa sempre bene, e comunque fa sempre delle prestazioni importanti. Il centrocampo forse è stato un po' deficitario, perché ripeto, Locatelli ha tolto l'occasione del gol, ha tolto il momento del gol, non è che abbia fatto questa grande prestazione, è stato il solito Locatelli, tanta quantità, poca qualità, ma anche lo stesso Rabiot comunque non è stato comunque il solito Adrian Rabiot, ha fatto un paio di accelerazioni molto importanti, in uno di queste nel primo tempo aveva impensierito la retroguardia della Milan con un inserimento molto importante in profondità, ha servito bene poi da Kostic, Paila a tagliare di sinistro dentro l'area di rigore, dove non arrivano gli attaccanti dei bianconeri, però comunque ripeto, a discapito di quelle due accelerazioni importanti, ripeto, Rabiot non è che abbia fatto questa grande prestazione, non l'ha fatta neanche Mekinic, comunque ripeto, continua forse in maniera incredibile, in maniera insolita, a fornire migliori prestazioni quando gioca esterno, ossia fuori ruolo, rispetto a quando gioca interno, ossia il suo ruolo, è un po' particolare questa situazione, forse Mekinic non riesce a inserirsi nelle fasi offensive, nell'area di rigore, non riesce ad essere importante nel suo fondamentale migliore, ossia l'inserimento in aria, nel corpo di testa magari, proprio perché comunque il gioco non è probabilmente un gioco che lo accompagna, che lo accompagna alle sue caratteristiche, quindi va in difficoltà, magari da esterno invece fuori ruolo, riesce ad essere un attimino più libero anche di pensare delle giocate diverse fuori dal suo repertorio, quindi è un po' particolare questa situazione, ne è piaciuto tanto invece Timothy Weah sull'esterno, e sono contento che abbia giocato, perché era arrivato il momento comunque di metterlo in campo dal primo minuto, se stava crescendo, come diceva lei che è in conferenza stampa, comunque meritava l'ingresso, e meritava anche comunque un palcoscenico storico per lui, importante perché Timothy Weah, ripeto, un Weah che torna a Sanzino dopo 25 anni, è sicuramente un momento storico da ricordare, invece meno bene Kostic, che è stato comunque molto impreciso, tanti cross alla rinfusa in area di rigore, ripeto, Kostic ha fatto solamente secondo me una giocata molto importante, che è quella conclusione al volo da fuori aria, dopo una punizione di Milik, che comunque è stata una bella idea, voleva sorprendere Mirante, però ripeto, tolto a quell'occasione tanti cross a casaccio in area di rigore, poteva fare sicuramente una prestazione molto migliore, molto meglio cambiato quando è entrato nel senso tempo, ma ne parliamo fra poco, ripeto davanti, ripeto davanti molto bene Ken, ragazzi, quanto sta crescendo Moise Ken, in settimana arriverà un contenuto su di lui, un focus dedicato al calciatore classi 2000 italiano, perché parliamo di un Moise Ken che sta crescendo davvero tanto, e secondo me si sta giocando anche un ruolo più importante, rispetto a quello che ha adesso in bianconero, ripeto, gli attaccanti titolari sono comunque Vlaovic e Chiesa, ma magari Ken potrebbe scalare anche le gerarchie, come primo cambio, magari come primo cambio a lei che poteva pensare da oggi in poi, a Ken come primo cambio, e no a Milik, perché in questo momento mi sembra leggermente meglio, fisicamente parlando, proprio l'attaccante italiano, però che comunque Milik ha fatto dei gol importanti nel corso di questa stagione, di questo inizio di stagione, quindi chiaramente Milik è un attaccante affidabile, però magari come spacca partite, cavolo Moise Ken potrebbe essere davvero un'ottima soluzione a partita in corso, per quanto riguarda i cambi mi ha sorpreso, mi ha veramente gasato tantissimo, da quando è entrato Huizen, che ha fatto un'ultima mezz'ora impressionante, un classico 2005 che esordisce a San Siro, con la maia della Juventus in un Milan Juventus, e la prima cosa che fa, il primo pallone che tocca in Serie A, è uno stop di petto, dove toglie praticamente il pallone a Leao, quindi fa una giocata difensiva su Rafa Leao, quindi un bigliettino da visita mica male per questo ragazzo, che poi poteva magari anche sparare la palla in tribuna tante volte, invece no, lui grande tranquillità, gli arrivava la palla di prima, giocava con tranquillità, con grande tecnica, o su Cambiaso come esterno, o sui compagni di reparto della difesa, quindi grande tranquillità per questo ragazzo, io l'avevo anche sottolineato nel video su Danilo, dove parlavo delle infortuni di Danilo, che avevo sottolineato che comunque Huizen poteva essere una carta importante, da giocare comunque per i bianconeri, poteva entrare nelle rotazioni questo ragazzo, non mi sarei aspettato sinceramente il suo ingresso in Milan Juventus, ma vedendo quello che ha fatto, a questo punto mi aspetto un Huizen, un po' più partecipe in prima squadra, perché cavolo questo ragazzo ha una personalità, ha una tranquillità veramente da veterano, quindi molto molto bene, ma benissimo anche Cambiaso, ragazzi Cambiaso e Vlaovic sono entrati, hanno spaccato veramente la partita, sono stati cambi impressionanti, Cambiaso tanti palloni giocati, ha giocato più palloni lui, in mezz'ora, 40 minuti, che è praticamente Milik e Ken in tutta la partita, quindi parliamo veramente di un super Cambiaso quando è entrato, tanti palloni giocati in verticale, in profondità, molto meglio lui quando è entrato rispetto a Kostic, e poi Vlaovic, Vlaovic ragazzi è entrato veramente col piglio giusto, con la cattiveria, voleva fare gol, non ci è riuscito, ha avuto due chance importanti, ma grande anche lui, per quanto riguarda il fraseggio, comunque ha avuto dei palloni complicati, l'ha gestito sempre nella miglior maniera possibile, quindi anche Vlaovic è entrato veramente alla stragrande, forse quello che è entrato un po' troppo timido, per il tipo di gara che era, era Miretti, Miretti è entrato, mezz'ora abbondante per lui, un po' troppo timido forse Miretti, perché sicuramente poteva gestire dei palloni in maniera diversa, aveva paura di sbagliare, quando hai paura di sbagliare dei palloni, li sbagli, quindi sicuramente anche Miretti mi aspetto molto di più, perché è un ragazzo molto talentuoso, se Usain dimostra questa tranquillità, e cavolo lo deve fare questo percorso, questo switch anche Miretti, ripeto una Juventus che non ha entusiasmato, sotto l'aspetto della prestazione, però è una Juventus, ripeto che ha ottenuto i tre punti, è riuscita a girare gli episodi a proprio favore, però ripeto sotto l'aspetto della prestazione, siamo ancora lontani anni luce, dalle prime gare di campionato dei bianconeri, una Juventus completamente diversa, 45 minuti iniziali di stallo, comunque di equilibrio, dove tu dovevi fondamentalmente, secondo il piano gara, portare a casa lo 0-0, e poi con i cambi provare a vincere nel secondo tempo, a me non piace questo tipo di piano di gioco, però perlomeno è un piano di gioco, è un'idea, quindi mi dà l'idea che comunque la Lega abbia preparato la sua partita in questa maniera, quindi c'è stato comunque un lavoro alle spalle, ripeto una partita comunque importante, giocata dai bianconeri, una vittoria importante, molto riflettuta sul Milan, e bisogna a favore dei bianconeri, però sicuramente in vista delle prossime gare, bisogna e si deve assolutamente fare meglio, ragazzi questo è il mio video, il mio contenuto sul Milan Juventus 0-1, il gol del destino di Manuel Locatelli, adesso però tocca a voi, di domani cosa ne pensate con un commento qui sotto, mettete like se vi è piaciuto, e iscrivetevi a questo canale, se non potete perdere nessun altro aggiornamento, sui miei video futuri ragazzi vi saluto, ciao a tutti da Domenica Versa, ciao a tutti raga!